Dal Vangelo secondo Matteo. A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a Pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo se ci scacci mandaci nella mandria dei porci. Egli disse loro andate ed essi uscirono ed entrarono nei porci ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e entrati in città raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Ci sono alcuni preti che quando leggono questo frano del Vangelo dicono ma Gesù ha guarito una persona di una malattia psichica. Non leggono questo frano. È vero che in quel tempo si poteva confondere un'epilepsia con la possessione del demonio ma anche è vero che anche c'era il demonio. E noi non abbiamo diritto a fare tanto semplice la cosa come per dire tutti questi non erano andemoniati. erano ammalati psichici. La presenza del demonio è nella prima pagina della Bibbia e la Bibbia finisce anche con la presenza del demonio, con la vittoria di Dio sul demonio.